Ciao ragazzi, sono di nuovo io, Miri, la vostra rappresentante Avon Come vi avevo già detto nelle mie puntate precedenti, vi avevo fatto notare i magnifici prodotti dell'Avon come ad esempio il bagno schiumi e il profumo Comunque adesso avevo intenzione di farvi vedere i miei rossetti della Color Trend Allora, volevo partire dalla tonalità rosso Bordeaux Abbiamo questa tonalità che si chiama appunto Terracotta ma che non è più in catalogo Ed è questo Bene, questa è una linea molto usata quando all'epoca è stato venduta anche perché adesso non lo troviamo più in catalogo E' molto bello come colore Come potete ben notare Comunque vi volevo aggiornare che i prodotti della Color Trend Ovvero i rossetti e il prezzo interesse è €6,50 Mentre scontato si può trovare €3,50 Questo per quanto riguarda tutti i rossetti Dopodiché sempre nella linea Color Trend troviamo adesso invece questo che si chiama vino disco E questo è il rossetto E questo è il rossetto nella mia mano Questa è una tonalità molto invece sul rosso Anche questo è molto usato e questo lo troviamo in catalogo Quindi per chi vuole acquistarlo potete acquistarlo Invece adesso andiamo sulla linea sempre Color Trend e rossetti Ma sulla linea rosa-violetto Proviamo questo che è Pink Diamond Aspettate Bene Questo è il rossetto nella mia mano Anche se non si vede Comunque E questo Questo è molto sul rosa-violetto Dopodiché possiamo passare sempre alla linea rosa-violetto E troviamo Diamond Questo però non è più in catalogo Vabbè sì, non si vede un cavolo però E questo Dopodiché Sempre per quanto riguarda la linea rosa-violetto Possiamo trovare questo che si chiama Amethyst Questo è molto invece sul violetto appunto L'hanno acquistato in tanti E vi svelo un segreto Con questi tre rossetti che vi ho appena elencato Possiamo appunto abbinarli al lucidalabbro Ovvero Lip Gloss Color Trend Della Startup Pig Questo qui Lo trovate in catalogo Dopodiché Sembra più quanto riguarda la linea Color Trend Possiamo elencare invece altri tipi di rossetto Che vanno sul marroncino un po' più chiaro Al marroncino un po' più scuro Proviamo questo Che si chiama Rich Berry Come potete notare è un marroncino molto scuro Purtroppo non si vede Vabbè comunque Cerco di farvelo vedere Vabbè va È molto scarsa questa luce Dopodiché Questo appunto abbiamo detto Che è Rich Berry Questo si trova in catalogo Poi possiamo trovare anche Sparkling Bronze Che questo purtroppo Non è in catalogo Ed è questo Dopodiché Vi faccio vedere il rossetto per intero Questo è molto sul bronzo Come si può anche vedere dal titolo Questo purtroppo non è in catalogo Dopodiché troviamo Sempre sulla linea Marroncino Marroncino scuro Troviamo Winterwein Che è questo Comunque È così Scusate Bene Questo è Winterwein E si trova in catalogo Dopodiché troviamo anche Questo che si chiama Pink Sunrise Questo anche si trova in catalogo È molto chiaro Quindi per chi vuole delle Sfumature leggere Un po' classiche Questo è ottimo Per chi non vuole appunto eccedere È un ottimo rossetto Vi faccio vedere innanzitutto Com'è Non si veda Bene Dopodiché Questo è il rossetto Spero si veda Dopodiché Troviamo Sempre per quanto riguarda La linea Marroncino Ginger E questo se non sbaglio C'è in catalogo Mi sbaglio Non c'è in catalogo È così Questa qui è un po' Tipo simile Allo Sparkling Bronze Che dà l'effetto bronzo Però è un po' più Sul marroncino È così Non si vede un cavolo Bene Comunque Il rossetto per intero È così Allora Vi svelo un segreto Per quanto riguarda La linea rossetto È terminato qui Ma Assieme a tutti questi qua Che come vi ho già detto Dà la tonalità Marroncino chiaro Marroncino scuro Possiamo Abbinare Questo Sempre della Color Trend Si chiama Modern Mocha Questo si trova Anche questo Se non sbaglio Come questo Ha il prezzo di 6,50 euro Prezzo intero Mentre scondato 3,50 euro E questo Come ho già detto Prima Si chiama Modern Mocha Bene Vi volevo dire una cosa Per maggiori informazioni Contattatemi su Facebook E innanzitutto Io metterò Una foto su Facebook Per quanto riguarda Questi prodotti E appunto Se non sapete ancora Il mio nome Cercate Miriana Franceschino Su Facebook E mi trovate Quindi per maggiori informazioni Contattatemi Bene ragazzi È stato un piacere Parlare con voi Un grande bacione Mua